ciao lettori bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video oggi apriamo insieme la casella numero 18 penso vi ho detto che ormai ho perso il conto nel nostro calendario dell'avvento e facciamo insieme l'ultimo book haul del 2023 vi vado quindi a mostrare gli ultimi libri che ho comprato che sono entrati a far parte della mia libreria tenete conto che li ho comprati davvero nell'arco di mesi quindi sembrano tanti ma in realtà ho fatto la brava anche perché è da un sacco di tempo che non pubblico un book haul sul canale di conseguenza è arrivato il momento di rimediare partirei subito con il primo titolo ed è missing words di andrea viscusi di questo titolo in realtà vi ho già parlato nel video dedicato alla tbr di dicembre uno dei primi video che ho pubblicato per il calendario dell'avvento e che vi lascio elencato qui sopra nelle schede si tratta di una distopia diciamo così young adult in cui i personaggi si muovono in un mondo dove ciascuno ha a disposizione un numero limitato di parole e quindi le persone non possono né usare quindi né pronunciare né scrivere ma neanche leggere e ascoltare le parole che non fanno parte del loro dizionario personale il protagonista è un ragazzo che frequenta le scuole superiori e che vorrebbe dichiararsi alla ragazza che gli piace alla ragazza di cui è innamorato ma non trova le parole per farlo e da qui prende avvio tutta la vicenda andrea viscusi come vi dicevo nel video dedicato alla tbr io l'ho conosciuto su tiktok e seguo davvero volentieri i suoi contenuti e quindi ho comprato il suo libro davvero con piacere anche perché affronta un tema che comunque mi intriga la trama mi intriga e poi perché penso che potrebbe anche essere una valida proposta di lettura da fare ai miei ragazzi vorrei iniziarlo nei prossimi giorni in teoria il lavoro dovrebbe cominciare a darmi un po di tregua quindi sono speranzosa insieme a missing words ho anche acquistato il custode di francesca tamburini anche lei l'ho scoperta su tiktok lei è una tiktoker molto giovane simpaticissima tra l'altro che condivide sui suoi canali il suo lavoro è creativo il suo lavoro di scrittura e questo invece è un fantasy a tutti gli effetti ed è ambientato in un mondo in cui le ragazze sono custodi della magia infatti sono dotate di poteri magici mentre i ragazzi i maschi non possono avere poteri magici il protagonista però come si intuisce dal titolo il custode è un ragazzo che non dovrebbe avere poteri magici infatti sta frequentando un'accademia per diventare ranger se non sbaglio sì esatto per diventare ranger in pratica una sorta di guerriero e scopre di avere dei poteri magici ma non può rivelarlo perché appunto lui non dovrebbe averli questi poteri dovrebbe essere una storia di formazione anche questa adatta per un pubblico di giovani lettori e anche questo libro promette di essere interessante e anche questa potrebbe essere una bella proposta da fare ai miei alunni poi proseguiamo con le vergine suicide di jeffrey eugenidis qualche anno fa un paio di anni fa ho letto dello stesso autore middlesex che mi era piaciuto moltissimo e mi ero sempre ripromessa di recuperare anche le vergini suicide è un romanzo che racconta la storia di cinque sorelle le quali appunto si tolgono la vita tutte in giovane età non so altro di questo titolo ne voglio sapere di più voglio solo gustarmelo perché sono davvero curiosa poi durante il periodo halloweeniano ho comprato diciamo sulla scia dell'entusiasmo per il topos della casa stregata rebecca la prima moglie di daphne du murier qui non siamo in presenza di una vera e propria casa stregata ma comunque di un'abitazione inquietante e sinistra la protagonista infatti è una giovane ragazza che a monte carlo incontra un uomo molto ricco e facoltoso che le fa una corte spietata e che dopo due sole settimane le propone di sposarlo lei innamoratissima accetta ma quando si trasferisce nella dimora dell'uomo scopre che la che la servitù ha nei suoi confronti un atteggiamento molto freddo e che soprattutto ogni stanza ogni angolo è pervaso dal ricordo dalla presenza dallo spirito di rebecca che era la prima moglie dell'uomo questa storia è famosa anche soprattutto grazie alla trasposizione cinematografica che ne ha fatto alfred hitchcock io ho visto il film un po di tempo fa comincio però ad avere dei ricordi un po sfumati di quella storia e di conseguenza potrebbe essere arrivato il momento giusto per andare direttamente alla fonte e per riscoprire questa storia proprio a partire dalle pagine di dafne du murier poi ho comprato e sono certa che vi stupirò la canzone di achille di medley miller allora libro su cui si è discusso tantissimo alcuni lo adorano altri invece lo cestinerebbero è una riscrittura un retelling dell'iliade in primo piano vi sono le figure di achille e di patroclo e la loro la loro storia d'amore allora ho comprato questo libro perché mi chiedo se non possa essere un bel modo per avvicinare i miei studenti alla lettura durante la prima superiore si leggono l'iliade l'odissea e quindi questo potrebbe essere un bel modo per avvicinare i ragazzi sia alla lettura sia alla poesia epica non mi aspetto che sia un retelling dettagliato e fedele all'originale anche perché se no non si tratterebbe di un retelling però di solito gli adolescenti lo trovano accattivante lo trovano appassionante è chiaro però che per proporlo a scuola deve essere un libro comunque dignitoso deve avere una certa qualità alcuni colleghi me l'hanno consigliato e mi hanno detto assolutamente un bellissimo modo per avvicinare i ragazzi alla poesia epica la mitologia io lo faccio leggere altri invece mi hanno detto no assolutamente orribile terribile quindi voglio farmene un'idea mia ho deciso di leggerlo e chissà vi saprò dire poi due libri che mi sono stati regalati in effetti il primo è la bastarda di Istanbul di Elif Shafak è un libro che racconta la storia di due ragazze una turca e una armena che si incontrano ad Istanbul e diventano inaspettatamente amiche nonostante i rapporti la storia di questi due popoli sia parecchio sofferta parecchio travagliata Istanbul è una delle mie città del cuore l'ho visitata nel 2019 appena prima che scoppiasse la pandemia e sono innamorata di Istanbul quindi mi è bastato leggere Istanbul sulla copertina per mettere il libro in wishlist anche la storia però comunque promette di essere molto interessante e quindi sarà una delle le mie prossime letture poi altro libro che mi è stato regalato ma che avevo messo effettivamente io in wishlist è la giornata di uno scrutatore di Italo Calvino sapete che io con Calvino ho un brutto rapporto nel senso che non l'ho mai amato da adolescente mi hanno sempre costretto a leggere i suoi libri perché a quanto pare gli insegnanti di lettere stravedono per Calvino ma io non l'ho mai potuto sopportare però è un autore importante è un autore cardine del novecento italiano e quindi vale la pena comunque di conoscerlo e di leggerlo ho recuperato alcune sue opere negli anni scorsi durante gli anni scorsi le ultime due sono state il sentiero dei nidi di ragno che devo dire per ora è il mio libro preferito di Calvino le città invisibili invece mi ha lasciata un po' tiepida vedremo che cosa accadrà con la giornata di uno scrutatore chiudiamo questa volta con un saggio un saggio bello corposo pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman saggio che ha avuto grandissimo successo di cui si è parlato tanto vi leggo direttamente la sinossi libro del premio nobel Daniel Kahneman accompagna il lettore in un viaggio che spiega i due fondamentali meccanismi della mente umana da una parte l'intuito la scelta irrazionale il pensiero immediato dall'altra la logica la razionalità la scelta immediata Kahneman esplora le straordinarie capacità e anche gli errori e i pregiudizi del fast thinking un sistema di pensiero che influenza profondamente i nostri comportamenti e le dinamiche delle società dell'economia così come dello slow thinking pigro e più costoso in termini di energie psichiche efficace quando risolve la distorsione delle scelte istintive dovrebbe essere quindi un saggio a metà strada tra la psicologia e la filosofia mi ispira un sacco mi chiedo quando avrò il tempo e l'energia di leggerlo questo devo dire la verità l'abbiamo comprato un po' in coppia interessava sia a me che al mio compagno e quindi un giorno che eravamo in libreria insieme l'abbiamo visto l'abbiamo comprato non so quando avremo il tempo di leggerlo più che altro perché mi sembra un saggio bello impegnativo al di là del numero di pagine che comunque non è indifferente quindi non so se lo leggerò a breve però mi piacerebbe davvero immergermi in questa lettura bene ragazzi sono felicissima di avervi sfoggiato i miei acquisti anche perché io amo moltissimo guardare i book haul sugli altri canali e invece io li faccio davvero raramente fatemi sapere se avete già letto uno o alcuni dei libri che vi ho mostrato che cosa ne pensate e niente io come sempre vi mando un bacione un abbraccio e vi do appuntamento a domani con il prossimo video ciao